Terzo scontro diretto consecutivo per il Cervinara. I ragazzi di Pasquale Ferraro, dopo aver affrontato rispettivamente Faiano e Battipaiese, domenica Russo di Paolisi ospiteranno il sorrento del neotecnico Coppola, secondo in classifica. Un'occasione più unica che rara è quella capitata a Pepe e compagni. È chiaro che per mantenere vive le ambizioni playoff occorre quantomeno bloccare la formazione costiera sul pari, altrimenti la strada verso gli spareggi diventerebbe davvero in salita. I biancazzurri non vincono ormai da un mese dalla sfida del 4 febbraio contro il Nola. Dopo quella vittoria sono arrivati due pareggi contro Solofre e Faiano ed una sconfitta nell'ultimo turno contro la Battipaiese. Fortunatamente questo piccolo calo non ha influito sulla squadra di Gioricci, che si trova stabilmente al quarto posto in classifica. Cervinara-Sorrento non sarà però soltanto uno scontro diretto. Sarà anche un'occasione per un Amarcord, perché per la prima volta, dopo il passaggio in rosso-nero, Simone Cioffi incontra il Cervinara da avversario. Non ci saranno sconti però. La formazione caudina vuole questa vittoria a tutti i costi per continuare a nutrire il sogno playoff e soprattutto per coronare una stagione esaltante dopo il ritorno in eccellenza. Grazie a tutti.